E' stato l'equipaggio dell'imbarcazione maltese Light Nighting con armatore Alfred Manduca della Royal Yacht Malta ad aggiudicarsi la quarta edizione del trofeo Boroli, la regata velistica che si è svolta nel fine settimana nelle acque antistanti il porto turistico di Marina di Ragusa. Secondo posto per l'equipaggio Allegra 2 con armatore Franco Civello del circolo velico Scirocco e terzo posto per Elusive 2 ancora da Malta. Quarto e quinto posto ancora per imbarcazioni maltesi, mentre a sesto posto un ex equo per un'imbarcazione maltese e una tedesca. La competizione sportiva è andata molto bene anche grazie a un vento ottimale e ha visto un'ottima partecipazione di equipaggi pronti a gareggiare per conquistare il trofeo che passa ogni anno dalle mani del precedente vincitore a quello del nuovo e che è dedicato alla categoria Gran Crociera. Sabato si è svolta una lunga che ha visto le imbarcazioni gareggiare nel tratto di mare compreso tra Caucana e Donna Lucata, favoriti da un vento di 25 nodi. L'iniziativa è stata promossa dai circoli velici Iblei, dalla Federazione Italiana Vela, FIV, Comitato, Settima Zona 4, mentre a suo sostegno ci sono la Fondazione Boroli, il Porto Turistico Marina di Ragusa, il Comune di Ragusa, la Provincia Regionale di Ragusa e il CONI.